ciao a tutti ragazzi oggi siamo in questo nuovissimo video di minecraft ma minecraft è bagadissimo come sto aggiornando come potete vedere ho entrambi i minecraft aperti perchè che cosa andrò a fare andrò a costruire una cuccia per cani questo video penso che durerà poco comunque questa cuccia credo che sia abbastanza carina quindi poi non lo so se vi serve ma perchè c'ho entrambi i minecraft aperti perchè questa cuccia si può fare in tutte le versioni di minecraft cosa incredibile quindi niente iniziamo subito con il video quindi niente iscrivetevi al canale in attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video che c'è quindi vedete questo video con tutti i vostri amici se vi piace questa idea iscrivetevi al canale esponuto un pollo vabbè arago comunque un'altra cosa scusate perchè qua qua c'ho la schiena di Alex perchè semplicemente perchè non me la fa cambiare e non mi fa mettere quella che c'avevo sempre quindi niente ok continuiamo col video ok allora quello che ci servirà sono è questo qua cioè una botola qualsiasi botola raga qualsiasi poi una scala qualsiasi questi scalini qua scusate qualsiasi poi 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 i vasi poi poi qualsiasi fiore raga qualsiasi poi poi dei lupi delle ossa è un espositore allora come dobbiamo iniziare che dobbiamo è mettere i cosi così perfetto in modo che vanno così quindi andiamo a fare così ok poi raga dobbiamo tipo accovacciarci e farlo così raga un secondo io che sto avendo dei problemini ehm no ragazzi scusate no ma ah si è giusto giusto così poi raga l'altro da questa parte e la stessa cosa la facciamo di qui no raga così ok e poi questo qui ok ok raga poi poi noi poi noi se giusto prendiamo quale espositore lo piazziamo qui poi il vaso lo piazziamo qui e il fiore ecco qua poi noi mettiamo lo so qui il lupo qui e lo ha dovuto o con un colpo e raga e qua questa sarà il placiccio quindi ditemi se vi piace perché è abbastanza carina o almeno per me guardate ora ve lo farò vedere anche da da java allora che prendiamo le stesse cose e le stesse regole valgono cioè cioè che potete prendere quello che volete tra questo questo è il fiore che poi l'ho cambiato perché non lo so quindi ora andiamo a fare la stessa identica cosa no ok così ok poi noi andiamo sempre ok così aspettati che erano un po' storto ora è dritto buono ok scusate perché qua del giorno è diverso ok poi un altro qui un altro qui e un altro qui poi poi qua prendiamo la connese mettiamo un osso prendiamo il vaso gli mettiamo il fiore il lupo lo addomestichiamo e vabbè ho amici migliori amici per sempre ed ecco qua fatta anche per java quindi come potete vedere funziona no che schifo funziona con tutte le versioni di di minecraft quindi niente spero che questo video vi sia piaciuto o no tu non puoi fare parte di questo video quindi ok quindi niente spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un bellissimo like iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere per non perdervi nessun nuovo video voi condividete questo video con tutti i vostri amici se vi è piaciuta questa idea e poi cosa che mi ero scordato di dire prima cioè di lasciare like se volete altri video come questi quindi niente ciao 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 Grazie.